L'ho voluto scrivere perché in questi 30 anni ho visto accumularsi molta polvere, anche molti equivoci. Soprattutto quando poi vedo nella ricorrenza dell'anniversario il 23 di maggio di ogni anno quelli che sono stati i suoi nemici implacabili, che lo hanno denigrato, che lo hanno avvelenato, amareggiato, ergersi come se fossero i suoi allievi e i suoi eredi, questo ha cominciato a indignarmi già da parecchio tempo e ho cercato di ristabilire un po' la verità dei fatti. Così Claudio Martelli a Pistoghi ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere Vita e perseguizione di Giovanni Falcone. Il libro, edito da La nave di Teseo, è stato presentato alla libreria Lo Spazio su iniziativa dell'Associazione Culturale Circollo Lo Spazio e del Centro Studi Calamandrei. Nell'incontro pistoiese al fianco di Martelli, che fu ministro della giustizia dal 1991 al 1993, periodo in cui chiamò Falcone, la guida della Direzione Generale degli Affari Penali, lavorando con lui al progetto della Superprocura Antimafia, Gian Paolo Pagliai e Massimo Baldi. Che uomo era al di là della figura pubblica, anche in virtù del vostro rapporto che si era creato negli anni? Io l'ho definito un uomo a probo e quando l'ho fatto era davanti a una scolaresca e qualche ragazzo, un ragazzo si è alzato e ha detto ma cosa vuol dire probo? E ho spiegato cosa vuol dire probo, la parola viene direttamente dal latino e non indica soltanto una generica onestà, no, indica anche la capacità, indica la rettitudine, indica l'essere fermo e stabile, al di là di quelli che sono i venti dell'opinione pubblica o delle contestazioni e delle polemiche, ha sempre seguito la sua via, che era quella di mettere lo Stato in condizione di fare la guerra alla mafia e di vincerla.